Ed in vista della giornata di domani venerdì santo a Favara entrano in vigore le regole al traffico introdotte dall'ordinanza numero 90 disposta venerdì scorso dal dirigente del Dipartimento Comunale di Polizia Municipale Gaetano Raia. Dalle ore 8 fino a fine manifestazione il divieto di sosta a amboelati con rimozione si istituisce nelle seguenti vie e piazze cittadine. Piazza Cavour, via Cesare Battisti, via Margherita, piazza Mazzini, via Umberto e piazza Capitano Vaccaro. Dalle ore 14 invece il divieto di sosta con rimozione in piazza Cairoli e via Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra la piazza Cairoli e la via Cesare Battisti. Dalle ore 8 di domani, chiuse e parzialmente chiuse al traffico veicolare fino al cessato bisogno, le vie Liguria, Toscana, Arcomendola, Zanella, Bersagliere Urso, Grotta, Pirandello, Tenente Colonnello Stuto e Sottotenente Giglia. Dalle ore 14 alle ore 17 nella piazza Capitano Vaccaro sarà consentito il transito ai veicoli che traspottano persone con difficoltà motorie. Il settimo dipartimento comunale ha anche stabilito lo spazio dove i venditori ambulanti possono piazzare le loro bancarelle. Zona questa è individuata nella via Roma nel tratto compreso tra le vie Cola di Rienzo e San Galogero, vietata la presenza di stand invece nei luoghi interessati dalla processione del venerdì santo. Invito la cittadinanza a rispettare i segnali che sono stati appositamente posizionati nelle strade interessate alla processione e a collaborare effettivamente con la polizia municipale.